Ben ritrovati a tutti amici, oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Pino Aprile, condurrà questa puntata insieme a me Angelo Calemme che conoscete ormai tutti benissimo, io mi limiterò a fare un po' di regia e prima di passare subito la parola ad Angelo che presenterà l'ospite volevo salutare Pino, grazie di aver accettato il nostro invito Pino e benvenuto sottolineati voi. Grazie a voi. Grazie a te. Allora Angelo parola a te e presenta pure l'ospite e poi vai con le prime domande. Allora Pino Aprile per chi non lo conosce ma credo saranno in pochi diciamo che è giornalista e scrittore, ha lavorato per la RAI, per TV7 e con Giorgio Zavoli nell'inchiesta appuntata e viaggio nel sud. Sin da vent'anni in realtà ha iniziato a lavorare con la Gazzetta del Mezzogiorno e successivamente ha ricoperto i ruoli di vice direttore e di direttore rispettivamente per oggi e per gente. Nel corso degli ultimi anni è stato più volte anche premiato per i suoi articoli, i suoi romanzi e le sue monografie che hanno fondamentalmente avuto come tema principale il revisionismo storico, ha svecchiato un po' l'approccio alla questione meridionale e l'ha riconsiderata alla luce delle tematiche relative al federalismo fiscale, all'autonomia differenziata, al regionalismo asimmetrico. Tra le sue principali opere si ricordano ovviamente Terroni del 2010, Giù al sud del 2011, Carnefici del 2016 e l'importante L'Italia è finita del 2018. ovviamente tutti questi titoli come ben altri hanno trasformato la scrittura di Pino Aprile da più propriamente giornalistica in una vera e propria scrittura politica, infatti questi titoli non sono soltanto delle ricerche giornalistiche ma anche dei veri e propri pamphlet, soprattutto appunto sui temi dell'autonomia differenziata, dei rischi dell'autonomia differenziata e sulle diverse declinazioni che l'autonomia differenziata ha di fatto raggiunto nelle diverse manovre finanziarie. Quindi intorno a questo lavoro giornalistico di blogger e di scrittore, Pino ha costruito anche un vero e proprio movimento politico che si chiama Movimento di Equità Territoriale e che ha nel suo bacino tutta una serie di soggetti, tutta una serie di associazioni, tutta una serie di partiti politici che sono state anche protagoniste per esempio della manifestazione napoletana del 16 gennaio contro l'autonomia differenziata. Quindi come prima domanda che porrei a Pino è quella relativa a come, se ci può descrivere brevemente, a come è giunto da studi bollati appunto come revisionistici all'iniziativa politica. Intanto di nuovo buonasera a tutti e diciamo che ci sono arrivato per quella strada che dovrebbe essere l'unica praticabile e cioè il dubbio. Io ragazzino quando è tutto pieno come tutti quanti insomma del mito fondante, forse più bello fra i paesi europei e non solo, che è quello di Garibaldi. I miti non sono la verità. Il mito è la prima forma di conoscenza, di trasmissione della conoscenza inventata dall'Homo Sapiens, ma il mito non racconta come sono andati i fatti, racconta la direzione dei fatti e lo racconta con una fiaba, un'invenzione. L'invenzione, il mito fondante dell'Italia è quello dei Mille, che è una fiabetta, è una roba da Walt Disney diciamo. Perché? Perché non ci viene raccontato, ma non ce lo raccontano a scuola, all'università, che dopo la partenza dei Mille, con il furto che non era un furto perché Rubettino le navi se le fece pagare, non fidandosi che vuole la garanzia del re, cioè da Genova e dai giorni successivi partirono navi piemontesi, francesi, inglesi, statunitensi che portavano decine di migliaia di, parliamo di finti volontari, erano dei disertori dell'esercito piemontese che disertavano con le armi, le divise dell'esercito da cui disertavano, i cannoni che venivano annunciati il giorno prima dai giornali. Domani diserteranno altri 850 nostri soldati che prima di partire con le navi A e B dal X e Y di Genova, allora tot ruberanno dagli arsenali militari che saranno lasciati incustoditi, tot fucili, tot munizioni, tot cannoni, eccetera, c'era tutto più pubblico di così e c'erano più di 20.000 soldati piemontesi, più la legione straniera britannica, comandata da un ufficiale statunitense, chi li pagava? Più la legione straniera ungherese, chi li pagava? Tutti i patrioti italiani, erano 50.000. Cioè quando da ragazzino, io facevo ancora le superiori, cominciai a trovare alcune di queste cose, poi io sono di Gerard Colle. È la figura forse più luminosa di patriota duo siciliano, è quella chiamata brigante ovviamente, ma persino nella relazione al Parlamento unitario, la relazione sul brigantaggio che ovviamente era tutta, sono i delinquenti, sono i farabù, eccetera, eccetera, si dice del sergente Pasquale Domenico Romano che era una persona di alti principi, colto, scriveva poesie, profondamente religioso e arrivò, era ricco di famiglia, spese i soldi suoi, era ricco, per rimettere insieme i resti del quinto reggimento borbonico di cui lui era. Cioè quando mio padre mi indicò la casa del sergente romano, non c'era condanna nella sua voce e mio padre era lì la personificazione della legalità, della correttezza, era un uomo austero e io rimasi colpito e cominciai a informarmi e pensavo che in tutte le grandi opere, costruzione di un paese, ci sono ahimè dei fatti che non vanno per il verso giusto, finché scopri che tutto il fatto non era per il verso giusto e cominciai a scriverlo, ma non a pubblicare. Il mio Terroni è venuto fuori dopo trent'anni che continuavo a riscriverlo e solo perché la casa editrice me l'ha strappato di mano. Ed è esploso, nessuno se l'immaginava, è quello dei miei libri, e ne ho scritti ormai più di venti, non mi ricordo quanti, che ha avuto la prima edizione più piccola. Quindi pensate quante copie pensavo di venderne io, è la stessa casa editrice. E invece esplose, andò esaurito nelle prime due ore in libreria e da allora la casa editrice lo editava, lo rieditava, lo ristampava, ci sono stati periodi che un giorno sì, un giorno no. Ed è stato, si pensi l'esplosione, il libro che da solo, di revisionismo risorgimentale, ha venduto più di tutti gli altri in un secolo e mezzo messi insieme. Ora, io volessi incensare Pino Aprile, direi avete visto quanto sono bravo io? In realtà la spiegazione da osservatore, devo essere tentare di essere obiettivo persino per quello che mi riguarda, è che quel libro è stato un cerino, ma la paglia c'era già. Cioè quei sentimenti covavano, avevano bisogno soltanto di una scusa per uscire. E avrebbe potuto essere, è stato il mio libro, avrebbe potuto essere un altro film come li chiamano Briganti di Squitieri, che fu comprato per non essere proiettato. Avrebbe potuto essere un'altra canzone come Brigante se more di Eugenio Bennato che è diventato l'inno del sud, ma a trent'anni da quando è stato composto. Quindi vuol dire che questi fiumi carsici dell'identità non li puoi soffocare. Prima o poi vengono fuori. Terroni è stata quella crepa che ha consentito alla diga, come dire, di venire giù. Quali sono i miei meriti? Solo aver lavorato. Il resto era tutto. Cioè, come dire, quel libro aveva i suoi lettori, ma non c'era il libro. Anche perché ormai da troppi anni la questione meridionale non veniva più manco nominata, cioè non studiata. Nominata. Chiudo per non essere troppo lungo. Cosa ho detto io di nuovo? Molto poco in Terroni. Poi in Carnevici, in altri, ho tirato fuori documenti che non erano mai stati scovati, soprattutto sulle stragi. Un genocidio. Ma cosa ho detto di nuovo in Terroni, di diverso? Forse l'ho detto persino peggio, e l'ho detto dopo. Di quanto abbia detto Francesco Saverionetti, un genio. Salvemini. Lo stesso Grammici, che ha usato parole terribili, molto più pesanti di quelli che ho usato io. Giustino Fortunato, grande unitarista che scrisse questi porci sono più porci dei peggiori porci nostri. E scoprì che la nostra situazione con i Borboni era profittevole. L'unità ci ha rovinato. Lo ha scritto Giustino Fortunato, e Guido Dorso, Ettore Ciccotti, e Carlo Alianello, e il grandissimo Zitara. Ma poi andiamo, la nostra storia l'abbiamo appresa dagli stranieri, Dan McSmith, John Anthony Davis, ma tutti lì. Non voglio fare tutta la lista. Basti solo pensare. Un stupendo studio di qualche anno fa, del docente di letteratura italiana dell'Università per Stranieri di Perugia, che mostra come la letteratura italiana preunitaria è tutta pro-unità. Dopo l'unità, quando si è visto in che cosa consisteva, in una strage, in un saccheggio e nella creazione di una colonia interna, la letteratura italiana è tutta anti-unitarista. E non solo Giovanni Verga, Federico De Roberto, ma è tutta così. Ma tutto questo non deve essere detto. Se no, fino a aprile vuoi spaccare l'Italia. Io. Cioè, più spaccate come avete spaccato voi. Cioè, io sono solo un cronista. Non ti sento? Sì. Volevo chiederti se a questo punto ti andrebbe di chiarire il passaggio appunto da la rivisitazione della questione meridionale alla luce, per esempio, del federalismo fiscale e come siete quindi giunti al movimento di equità territoriale. Io sono stato tirato, come si dice, per la giacchetta, per creare qualcosa in politica o impegnarmi in politica. Io ho dovuto fare violenza su me stesso perché io sono contrario all'impegno politico specifico dell'intellettuale. Guardate, non mi voglio definire intellettuale. Io sono un banalissimo cronista. Però sono in questo, nel mio mestiere giornalista, sono rigoroso. La regola del giornalismo è stata presentata in tanti modi, come dire, ce la tiriamo molto, ma in realtà è banalissima. Quando sai una cosa la devi dire. E questo è il giornalismo. Se cominci a chiederti, ma se la dico poi succede questo e che cosa diranno? Non stai più facendo il giornalista. Perché l'uso, l'interpretazione, l'elaborazione, persino la negazione di quello che viene detto. Non è più giornalismo, è politica. E io non volevo fare politica. Io volevo e voglio fare solo il giornalista. Tant'è che quando nel 2013 tutti i movimenti meridionalisti, che sono tantissimi o identitari, è in contrasto perenne fra di loro con una ferocia che non si all'idea, ma è normalissimo questo. Avviene in tutte le colonie. Nelle colonie le guerre sono civili, si combattono fra di loro, non si mettono insieme per combattere il colonizzatore. Perché questo è proprio il meccanismo della colonia. Lo facevano, lo raccontano benissimo, Arthur Mogli e Stevenson nel loro libro, perché le nazioni falliscono. Gli inglesi come facevano? Mandavano uno di loro in un territorio, quello che volevano colonizzare. Questo si studiava la situazione, cioè non è che mandassero l'esercito. Dopodiché vedeva che c'erano, che so, Tot Capetti, ne nominava uno Paramount Chief, cioè capo di tutto, investito di questa autorità su tutti gli altri da sua maestà britannica, che quelli manco sapevano che esistesse magari. E ovviamente gli altri non accettavano, c'erano guerre civili e questo vendeva armi all'uno e agli altri. Dopodiché vedeva chi vinceva e nominava lui Paramount Chief. A quel punto il potere in quel territorio e su quella popolazione era delegato dall'esserno. Questa è la colonizzazione. Questa è la ragione per cui la classe dirigente meridionale non fa mai gli interessi del sud. I parlamentari meridionali, ma adesso, parlo di ora, non voglio fare tutto, hanno appena votato quelli della maggioranza un ordine del giorno per far pagare meno gli insegnanti del sud. L'hanno votato i meridionali. C'è più schiavi di così. L'autonomia differenziata, che è la fine del paese, la fine dell'Italia, è che priverà il mezzogiorno persino delle briciole che finora sono state mandate al mezzogiorno. Parlo di briciole. Cioè la suddivisione dei soldi in Italia, la famosa spesa storica. Comincia da Nitti e arriva oggi. Non vi voglio tediare. Ma Nitti racconta, per esempio, guardate che Nitti era un genio, eh? A 23 anni era docente universitario di economia, scriveva libri di economia in tre lingue diverse e per rilassarsi componeva in greco antico e latino arcaico. Ha 23 anni. È stato ministro e poi capo del governo. Ha avuto accesso ai documenti, agli atti e li ha pubblicati. Per esempio, la legge sulle bonifiche. 458 milioni di lire dell'epoca erano più del PIL. Significa come se oggi si facesse una legge per bonificare la terra dei fuochi, i luoghi contaminati, che valesse qualcosa come 2.500 miliardi di euro. Come venivano suddivisi questi 458 milioni? 455 al nord e 3 al sud. E oggi come si fanno le cose? I soldi contro l'evasione scolastica, che sono stati dati all'Italia per non far andare via la scuola i ragazzi, gli scolari, dove invece non ci vanno a scuola. E dov'è? Il record era a Scampia, record europeo, non italiano. E in alcuni quartieri di Palermo. Come hanno distribuito i soldi? Il 97% al nord e il 3% al sud. E i soldi per le scuole terremotate, che sono 24.000 e 13.000, sono soltanto fra Campania, Calabria e Sicilia. E poi ci siamo dimenticati l'Abruzzo, l'Aquila, eccetera. Come hanno distribuito questi soldi? 97% al nord e 3% al sud. Chi ha preso il massimo dei soldi la Lombardia? Nota regione terremotatissima. Tutti sappiamo che le scuole della Lombardia sono tutte atterrate dai terremoti, che un giorno sì e un giorno no. È tutto così. E quindi io però ero contrario a fare politica personalmente. Perché? Perché dicevo, il mio compito è le vittorie politiche. Cioè io non è che mi astengo dalla politica. Ritengo che per fare politica è più importante fare il giornalista che il politico. Perché se il giornalista dà dei dati e quei dati sono incontrovertibili, io non mi chiedo se il politico che usa quei dati per una maggiore giustizia di destra, di centro e di sinistra. Voglio solo che lavori per una maggiore equità. E allora la vittoria deve essere culturale, cioè deve entrare nella testa della gente, nei programmi dei partiti. E non voglio sapere di che colore sono. Per questo quando tutti quei movimenti nel 2013 fecero una campagna e si radunarono tutti e l'allora sindaco di Bari, Michele Emiliano, offrì il comune come incontro. Dice no, no, perché glielo voglio chiedere anche io di fare, di entrare in posizione. E io rifiutai. Quando mi hanno offerto da sinistra, da centro, da destra, mi hanno offerto di tutto come seggi sicuri in Italia, in Europa. Io ho sempre rifiutato. Finché nel 2019, ho visto un razzista, se lo chiamo così è perché ha una condanna definitiva per razzismo contro i meridionali, segretario nazionale di un partito che è schifo e vergogna dell'Italia, unico paese ad associare alla maggioranza di governo un partito razzista. Salvini, vi ricordate, sull'onda dei sondaggi che lo portavano da fra il 35 e il 40, non si capiva più, convocò come il colonnello Tehero, il Parlamento d'Agosto, e disse togliete il culo dall'Ebzraio. Lui stava dal papete, lo diceva gli altri. E annunciò che voleva i pieni poteri e che a ottobre si votava. E io mi chiesi se, come dire, il mio purismo non fosse colpevole. Cioè Don Milani diceva a che serve avere le mani pulite se ce li hai in tasca. E allora lanciai un appello su Facebook, vediamoci in un bosco dove stavano i briganti. E vediamo cosa fare. E aspettavo 40-50 persone. D'estate, ragazzi, non c'è neanche la strada per arrivare lì, è sterrata. Ma aspettavo 40-50 persone, ne arrivarono 600. Fermai un professore del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, ma filiale di Singapore, che stava pigliando un aereo per venire in Italia. Ma chi te la fa fare? Famo una diretta Facebook e te la vedi lì. Ecco, ha ripreso gli aerei dalla Spagna alla Germania. Io vedi succedere la qualunque. In pochissimi giorni avevamo migliaia di iscritti. Non sapevamo neanche come registrarli. Ovviamente poi con il tempo si è visto che c'era chi voleva che però fosse una cosa di destra, chi voleva che fosse di centro. Si presentarono addirittura alcuni con divise militari. Volevano fare la parte militare armata del Codice Aradia. Ma voi avete perso la testa. Erano militanti già del movimento indipendentista siciliano. Qua siamo pacifisti e disarmati, sono pure vegetariani. Lasciatevi stare con queste cose. Successe di tutto. Poi c'è stata una grande frammentazione, ma quello che è rimasto è molto interessante. Il Movimento per l'Equità Territoriale ha un segretario nazionale che è un parlamentare europeo e viene premiato quasi tutti gli anni come parlamentare più attivo, cioè più gran lavoratore d'Europa. Ed è una bella fortuna. Si chiama Pier Nicola Pedicini ed è, oltre che anche un bravissimo musicista e compositore è un fisico applicato alla medicina. Insomma, si stanno facendo tante cose interessanti. Adesso non devo dirlo io, ma... se volessimo in qualche modo descrivere un po' per sommi capi il programma del Movimento di Equità Territoriale. Io ho fatto una ricerca e mi ha molto colpito la voce sulle infrastrutture e sull'inclusione e la coesione sociale, che è un punto sul quale per esempio punta anche Pasquale Tridico di recente ha pubblicato un testo governare l'economia e ho visto delle analogie, delle affinità proprio sull'aspetto dell'inclusione e della coesione sociale. Io ti vorrei chiedere se potessi precisare questo passaggio. Soprattutto in un momento in cui si parla anche di rapporto Letta, cioè un rapporto che fondamentalmente sponsorizza una finanziarizzazione all'interno dell'Unione Europea e quindi ancor più un programma contro qualsiasi esempio di politica economica che punti sull'economia reale, sullo sviluppo di una politica industriale per il nostro paese. Sì, io apprezzo molto il lavoro di Tridico, tra l'altro ci conosciamo e credo di essere stato un dei primi a cui ha dato il suo libro e condivido molto anche dei suoi studi e le sue posizioni e le sue proposte. La verità è che il programma del Movimento per l'equità territoriale è il più cretino che c'è. È proprio stupido. Cioè in realtà il Movimento per l'equità territoriale sarebbe inutile. Cioè in un paese non eccezionale, appena appena normale, noi faremo ridere. Perché che cosa vogliamo fare con il Movimento per l'equità territoriale? L'applicazione della Costituzione. Dice, beh, c'è già la Costituzione e tu fai uno statuto in cui dici quello che c'è nella Costituzione. Ma ti sarai montato la testa? Hai copiato? Sì, abbiamo copiato. Che cosa vuole il Movimento? Lo dice la parola? Equità territoriale. Significa che in un paese privo di equità come il nostro, tu hai che con i soldi di tutti gli italiani, nella sola Lombardia, 10 milioni di abitanti, hai più corse di treni pagate da tutti, eh? Io lo scusate se lo ricordo ogni tre parole, hai più corse di treni che in tutte e sette le regioni del sud messe insieme. 20 milioni di persone. Questo l'equità territoriale non lo può tollerare. Cioè ci deve essere un coefficiente che si chiama, come dire, percorribilità in treno a chilometro per migliaia di abitanti e quello deve essere uguale in tutta Italia. Tu non puoi essere un italiano sfigato solo perché sei nato qui o vivi qui invece che là. Cioè se sono italiano e la Costituzione mi dice che sono titolare di certi diritti, quei diritti li voglio. E non è che ne devo essere privato solo perché sono di Matera e quell'altro è di Udine. A Matera in 163 anni non è ancora arrivato un treno. Nel 1901 a uno dei più grandi meridionalisti, guardare che il meridionalismo è una disciplina sofisticatissima, unica al mondo, ce l'hanno copiata nel resto del mondo. Perché è pieno di economia, agronomia, politica, persino psicologia. Cioè c'è tutto dentro. Ed è così complessa, sfaccettata, che ha affascinato. Pensate, c'è un signore che ha preso il premio Nobel come meridionalista, economista meridionalista, ma era svedese, Gunnar Mirdal. Uno dei più bei testi, più ponderosi sulla questione meridionale. L'ha scritto Friedrich Wershtin, scusate perché non lo so pronunciare bene, svizzero, svizzero-tedesco. Ora, il meridionalismo è una disciplina che è nata prevalentemente grazie a politici e intellettuali del Nord. Uno dei maggiori, grande presidente del Consiglio, eccetera, Giuseppe Zanardelli, vuole andare a vedere di persona come stavano le cose. E a Matera dovete arrivare a dorso d'asino come Cristo a Gerusalemme. Lui si impegnò, era una persona vera, Zanardelli, bresciano. Il sindaco di Matera gli scrisse una lettera in cui chiedeva, eccellenza, per favore trattateci come le nostre colonie africane, che almeno hanno il conforto della vaporiera. Perché l'Italia costruì le ferrovie, i treni al Nord, poi al Centro, una ceppa al Sud, poi nelle colonie e poi qualcosa al Sud, badate, a scartamento ridotto come quello nelle miniere. Ora, la lettera del 1901, l'attuale sindaco di Matera la può fotocopiare e mandare a Giorgia Meloni senza cambiare una parola. L'equità territoriale vuole che finisca questo schifo. Vuole per esempio che se lo Stato italiano, il governo fa un accordo con la Cina per le rotte per la seta, le rotte della seta, non metta come condizione che le navi debbano approdare per forza soltanto a Genova e a Trieste. Ma vi rendete conto che le navi devono passare sotto il naso di tutti i porti del Sud, compreso il migliore porto italiano che c'è, uno dei migliori d'Europa, quello di Gioia Tauro, per andare ad approdare per esempio a Genova, che non ha banchine e non ha retroporto, mentre Gioia Tauro ha chilometri di retroporto, ha i fondali per le supernavi naturali che Genova non ha, per cui le supernavi non possono arrivare lì. però perché c'è questo? Quando era ministro dei trasporti il genovese burlando e si vide che cosa poteva succedere con Gioia Tauro che appena partì fece record, i camalli, cioè gli scaricatori del porto di Genova, mitica consorteria, una grande storia, andarono da burlando, cioè cosa serve? Tu arrivi al porto, scarichi i container, poi li metti sul treno e quelli vanno. Mancavano otto chilometri per collegare il porto di Gioia Tauro alla rete ferroviaria. I camalli dissero a burlando se tu, ministro dei trasporti, fai costruire quegli otto chilometri, noi spostiamo tutti i voti dal PC a un altro partito. Stiamo parlando del partito comunista. i lavoratori, i poveri, l'equità, le cose, è lì meglio, non mi fate... E burlando chiamò il presidente delle ferrovie dello Stato, non di Genova, e disse se tu fai fare quegli otto chilometri salti. E il presidente Lorenzo Necci questa roba l'ha detta, l'ha raccontato solo decenni dopo, prima di morire. E l'Italia ha perso il porto di Gioia Tauro perché quelle navi, invece di andare fino a Genova con tutti i problemi che ha, proseguono per Algeziras in Spagna oppure vanno a Rotterdam. E l'Italia ha perso quel traffico e lo perde ancora oggi. L'equità territoriale vuole che questo non accada. E se io ho un porto italiano al sud, tu non devi vietare alle navi di approdare lì. Sapete se avessero messo in funzione il porto di Taranto, invece di impedirne l'accordo con i cinesi, quanti posti di lavoro ci sarebbero stati a Taranto? 50.000. A Taranto nascono bambini deformi che muoiono di un cancro che esiste solo in una provincia cinese inquinata da un particolare, adesso non ve lo saprei dire a memoria, l'ho scritto in uno dei miei libri, Sud Puzza. Taranto è la città più massacrata d'Europa. Il 90% della diossina d'Italia è scaricato sui tarantini. Io sono cresciuto lì. La palazzina popolare in cui io sono cresciuto era di rimpettaia dello stabilimento siderurgico, attraversavi la strada e stavi nella ciaieria. Quelli della mia palazzina sono quasi tutti morti di cancro. Il porto di Taranto avrebbe consentito di liberare Taranto da questa monnezza. Quando a Genova si scoprì che la lavorazione a caldo dell'acciaio faceva morire di cancro gli operai e anche i loro familiari distrussero lo stabilimento. Garantì lo Stato, il posto di lavoro, l'anzianità, tutto a quei lavoratori e trasferì quella lavorazione a caldo a Taranto. Perché a Genova si disse la Costituzione tutela la salute degli italiani. E perché i tarantini cosa sono? Quindi se muoiono genovesi è anticostituzionale e invece di far morire i genovesi fate morire i tarantini va tutto bene. L'equità territoriale non vuole questo. Vuole che non muoiano né i genovesi, né i triestini, né i casertani, né i tarantini, eccetera, eccetera. Cioè che gli italiani non debbano essere meno italiani se stanno in un'altra parte del paese. Il microfono. Sì, Angelo, te lo facci caso perché te lo spengo io dopo che è finita la domanda perché fa un pochino di eco, quindi poi te lo ritrovo. Scusate un attimo. Sento. Sì. Posso? Prego, prego. Sì, la prossima domanda era relativamente a un punto del programma, quello relativo alle infrastrutture e alla mobilità. Ho notato che si parla di una nuova banca per il mezzogiorno, capace di sovraintendere le politiche di sviluppo del Sud per allinearlo non solo ai livelli di sviluppo del resto d'Italia, ma d'Europa. Quindi mi ha colpito come si lavora a proposito di uno sviluppo che punti soprattutto sull'integrazione del mercato meridionale, non soltanto con il resto ma anche e soprattutto con il Mediterraneo. Quindi a quel punto ho pensato, ma il movimento per l'equità territoriale può in qualche modo rifarsi anche a un modello teorico che è stato elaborato soprattutto da Luciano Vasapollo e che è definito come una sorta di meridionalismo allargato? Assolutamente, perché l'equità territoriale è un valore universale. Se i valori non sono universali, non sono valori. Io non posso sentirmi soddisfatto se il mezzogiorno d'Italia viene messo alla pari e qualche altro che, come sapete bene, ci sono degli studi stupendi sul proletariato esterno. Se io sposto da qui a lì l'ingiustizia, non ho eliminato l'ingiustizia, ho solo fregato un altro. L'equità territoriale non lo può accettare questo. Ed è l'esatto contrario del leghismo, del razzismo. Perché? Perché l'equità territoriale dice che nessuno può avere meno di un altro che ha i suoi stessi diritti. Ma dice pure che una volta che li hai avuti, nessuno può avere più degli altri. Significa che mentre il leghismo si configura proprio nella politica di attrarre in alcuni territori tutto il massimo possibile, togliendo anche agli altri, ma tu sei bravo? Se quello muore di fame e lì di nuovo caviale non mi piace. Ecco, questo è il leghismo, è il razzismo, questa è la fine della comunità. Gli esseri umani si mettono insieme perché per stare in comunità devono rinunciare ognuno a qualcosa. Perché lo fanno? Perché quello che invece ottengono, guadagnano dalla comunità supera il sacrificio. Io sono Schwarzenegger e rinuncio a risolvere le mie questioni a sganassoni. Non sei d'accordo? Ti smonto la mascella. Perché? Perché se lo faccio finisco in galera. Però questo impedisce pure a Schwarzenegger 2, Terminator, che venga a smontare la mia mascella perché la persona più veloce del Voiz ne trova sempre prima o poi un'altra che è ancora più veloce. Questo è il vantaggio della comunità. Ecco perché l'egoismo distrugge le comunità. L'equità territoriale non può volere questo. E quindi andiamo al Mediterraneo. Scusate ma forse non dovrei io ancora negli occhi il volto di mia figlia che è appena tornata da una missione nel canale di Sicilia dove hanno salvato 87 naufraghi erano alla deriva, il motore non funzionava più eccetera eccetera. Mia figlia è un'antropologa culturale che poi di nascosta dai suoi genitori è andata a fare la giornalista. L'abbiamo scoperto dopo quattro mesi e mezzo. Insomma non è più una ragazzina eh. Insomma dai. Quel salvataggio è successo il giorno del suo compleanno. Ha detto papà è stato il compleanno più bello della mia vita. mi ha raccontato le storie. Cioè come come si faceva a dire dobbiamo fermarli, mandate le navi, i muri a mare, bombardateli ma ve lo ricordate? Ma brutta testa di picchio. Ma tu come fai a sapere che quello che stai vuoi far morire? Non facciamo nomi. Ministro piante dosi. Ma se tu obblighi le navi a accompagnare quelli salvati a centinaia di miglia da dove li hanno salvati in modo che siano più lontano possibile dalla zona dove potrebbero svolgere la loro attività. Tu stai condannando a morte quelli che non troveranno quelle navi mentre sono alla deriva. Come fai a dormire la notte? Come fai a non vedere in quelli tuo fratello, non dico tuo fratello, uno che ti conviene? Come fai a sapere che uno di quelli non sarà il fisico che finalmente scopre la fusione fredda? Come fai a sapere che fra quelli non c'è Ray Charles II? Come fai a sapere che non c'è magari Naomi, Campbell? Cioè ci stiamo privando. Io ho proposto, non riuscendoci ma non abbandono, ragazzi, quelli sono la nostra prossima classe dirigente. Ho proposto che le loro storie vengano raccolte con i documenti, le foto. Io proporrei Lampedusa per una Ellis Island perché domani i figli e nipoti di quelli che saranno ministri, ingegneri, docenti universitari, compositori, vorranno cercare i volti dei loro nonni. Quando hanno tradotto terroni negli Stati Uniti mi fecero, pensate come siano combinati lì ragazzi, hanno messi male perché mi nominarono uomo dell'anno a New York. Cioè per andare a pescare un cronistuzzo in Italia per farlo uomo dell'anno state messi male. Come hanno tradotto il titolo del libro per curiosità? Era intraducibile. Infatti l'Istituto di Italianistica, il John Calandra Institute della CUNY, la City University of New York di Manhattan, la più grande, ha nella traduzione poi ha messo una post in cui dice questo titolo non si può tradurre perché c'è un termine che viene usato più o meno con la stessa accessione negli Stati Uniti ed è diciamo per mettere, ma è il termine, cioè è palla di merda, c'è palla di terra, però non c'è la connotazione geografica. Cioè lo sei tanto al nord quanto al sud, cioè sono equi nell'insulto diciamo. Per cui negli Stati Uniti è Cerrone. Com'è? Cerrone. E portai le mie figlie e mio nipote a Ellis Island. Bisogna andare a Ellis Island. Quando entri in quello stanzone, vi giuro, io pensavo che fosse successo a me, non sapevo dove nascondermi per non farmi scoprire. Sentivo le voci. Mi venivano a piangere. E poi ho visto che era successo anche agli altri. E allora per riprendere, così ci siamo messi a smanettare nell'archivio. E cosa scopro? Che mio nonno, quello di cui porto il nome, era passato per Ellis Island. Chiamo mia madre, dica ma. Ma non mi ha detto niente. Cioè non è capitato. Non è capitato. Avevo 62 anni. Quando me lo volevi dire? Bisogna, quelli che stanno attraversando il canale, il Mediterraneo, i loro figli, i loro nipoti, saranno come me, le mie figlie e mio nipote a Ellis Island. L'Europa lo sa. L'Europa ha paura di perdere il Mediterraneo perché l'ha già perso. L'Europa deve la sua potenza politica ed economica nel mondo storicamente al Mediterraneo. Ci ha messo alcuni secoli, circa otto, per riportare il potere orientale, diciamo che aveva preso la spagna, si identifica con l'Islam ma avrebbe potuto essere qualunque altra cosa, riportarlo sulla sponda est del Mediterraneo. Per più di due secoli l'Europa ha fatto guerra la Russia per impedire che si affacciasse il Mediterraneo. L'Europa è potente finché il Mediterraneo è un lago europeo. Oggi abbiamo di nuovo i turchi a Tripoli. Per la prima volta nella storia i russi sono a Tobruk, in Africa. Il traffico commerciale marittimo del Mediterraneo è in mano ai cinesi. L'Europa è out. L'Europa è in crisi economica. E allora di qui nasce il Recovery Fund, ovvero il Next Generation EU. L'Europa investe questa cifra con dei bond, dei titoli, un debito europeo che la Germania non voleva e non voleva. Se lo fa è perché è disperata. Perché la Germania ce l'ha nella Costituzione il no all'inflazione dopo quello che è successo con la Repubblica di Weiva. E allora su 800 miliardi, 200 all'Italia. Ragazzi, i paesi europei nell'Unione sono 27. Se su 800 ne hai 200 all'Italia. E quelli che restano diviso fra 26, fra cui Germania, Francia, Spagna, cioè non Lussemburgo per dire. Perché? I criteri per questa suddivisione, e guardate che è stato il Movimento per l'Equità Territoriale a fare i conti. Nessuno in Italia lo aveva fatto. Sono soldi in proporzione alla popolazione, in proporzione al tasso di disoccupazione, in proporzione inversa al reddito pro capite. Siccome per le politiche antimeridionali, coloniali, dello Stato italiano, con la monarchia, con la littatura, con la Repubblica, con la destra, con il centro, con la sinistra, cambia niente, il sud è la più grande macroarea europea, con il più basso reddito pro capite. Sapete? L'unico territorio più povero del sud dov'è? È la Mayotte. È un territorio francese d'altremare, una colonia. L'Europa però, per diventare potenza politica, ha bisogno di ridiventare potenza economica. Siccome l'economia ti dice che lo sviluppo, il coefficiente di sviluppo è tanto più alto quanto maggiore è lo sviluppo da recuperare, l'area europea dove c'è questo maggiore di vario, è il sud in Italia. Per questo ha mandato all'Italia 200 miliardi su 800, per investirli al sud. E lo dice nel suo rapporto. Li dovete spendere lì per abbattere le disuguaglianze. Perché? Perché i soli due momenti della sud Italia in cui l'Italia è cresciuta come prima al mondo a due cifre sono stati i primi anni dopo il Novecento e i primi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cioè quando lo Stato italiano ha trasformato la questione meridionale in questione nazionale investendo al sud. Quindi l'Europa vuole la crescita economica del sud. Perché? Perché per l'interdipendenza economica un euro investito al sud rende un euro e 41, quel 41 va al nord senza che faccia niente. Lo stesso euro investito al nord rende un euro virgola 0,4. Cioè 0. Viene consumato, non investito. Quindi investendo al sud cresce anche il nord. Se cresce il nord cresce la Germania. Perché? Perché l'economia italiana è la seconda manufatturiera d'Europa. La prima è la Germania. Ma quella italiana è propedeutica quella tedesca. Significa che i tedeschi assemblano quello che l'Italia produce. Quindi se parte il sud, parte l'Italia, parte la Germania, parte la Germania, parte l'Europa. L'Italia cosa sta facendo? Ha sottratto quei soldi destinati al sud e li sta spendendo al nord. Sta facendo fallire la politica europea per tornare potente e grande nel Mediterraneo. Perché una politica mediterranea che abbia come fulcro il sud d'Italia significa un accordo, un'economia che si lega con quella del nord Africa e guardate che il continente di domani è l'Africa, non è la Cina. È l'Africa che sta dando i più alti coefficienti di sviluppo. E noi ci stiamo privando di questo, ma non per l'Italia, per l'intera Europa. E quando tu parli giustamente, Angelo, di banca, perché? Perché le banche meridionali sono state rubate. Vado velocemente perché se no vi rubo troppo tempo, ma prendete il Banco di Napoli. È stato con Ciampi, governatore della Banca d'Italia, il Banco di Napoli con l'accusa di essere insolvibile, di aver fatto troppi prestiti che non si potevano recuperare, è stato costretto a essere svenduto, regalato alla Banca Nazionale del Lavoro per 60 miliardi di lire dell'epoca, manco le 6-10 pagari. Voi non avete idea della ricchezza solo di quadri che ha il Banco di Napoli. Due anni dopo il Banco di Napoli è stato venduto per 3.000 miliardi a Intesa San Paolo. Perché? Perché la Banca Nazionale del Lavoro per una speculazione sbagliata sul commercio di armi fatta all'Atlanta. Nella Banca Nazionale del Lavoro c'era il figlio di Ciampi e il cugino di Cossiga. Era letteralmente andata a gambe per aria. Migliaia di miliardi volatilizzati. Con il furto del Banco di Napoli si è salvata la Banca Nazionale del Lavoro. Ma il Sud non ha più una banca per la sua economia. Per cui al Sud che fanno le banche del Nord rastrellano il risparmio e lo investono al Nord. Ed è un'altra forma di colonialismo. C'è sempre l'istia. Credo che possiamo concludere che il movimento di equità territoriale punta su un modello di sviluppo per il Mezzogiorno fondato non riproducendo scambi ineguali con magari paesi partner del Mediterraneo, ma integrando il Mezzogiorno a un mercato più grande di tipo Mediterraneo che però si fondi su principi di solidarietà, di cooperazione, di integrazione economica. Quindi in alternativa totalmente al modello di sviluppo fondato su Maastricht, quindi più che su un'integrazione, su una disintegrazione, su rapporti asimmetrici tra centri e periferie, il movimento dell'equità territoriale si fonda sul principio dell'equità come appunto principio per lo sviluppo fondato sull'integrazione. Guarda, non importa dove un essere umano viene privato, diminuito nella sua umanità. dovunque accada io sono in pericolo perché si comincia lì e poi può essere esteso dappertutto. Il fatto sulla collaborazione, i popoli, i paesi eccetera, in realtà va ridisegnata la ragione stessa dello stare insieme. Perché? Perché l'Europa è stata creata come Europa degli Stati e gli Stati sono stati nazionali. Gli Stati nazionali sono un'invenzione recente nella storia dell'umanità perché sono nati per favorire lo sviluppo della civiltà industriale e quindi parliamo di un paio di secoli. come sono fatti gli Stati nazionali? Beh, l'Italia ne è un esempio. Si sono soffocate le nazionalità italiane che sono strepitose. Cioè non esiste un paese al mondo con una varietà di cultura, di lingue, di dialetti, di storia come l'Italia. Perché? Perché bisognava creare, come diceva D'Azeglio, fatti l'Italia, facciamoli italiani. Prima è stato fatto uno Stato ma mancava il popolo che si identificasse con quello Stato. Quando è stata fatta l'Italia, a parlare italiano era il 2% della popolazione. Pino, ti devo purtroppo interrompere perché ci mancano solo due minuti. Perfetto, finisco velocemente. Sì, perfetto. Quindi si dovrà passare dall'Europa degli Stati all'Europa dei popoli, non dell'Italia, della Francia e della Spagna ma dei siciliani, dei catalani, dei bavaresi eccetera eccetera. Roba che sta avvenendo in tutto il mondo. Raccolta di firme che hanno fatto in Baviera per separarsi alla Germania, in Texas per separarsi dagli Stati Uniti, così in California eccetera. C'è anche un interesse dell'economia finanziaria globale per questo, per sfasciare gli Stati. E lo Stato che stanno sfasciando è l'Italia con l'autonomia differenziata. Siccome l'Italia è un pezzo troppo grosso per ingoiarlo, bisogna prima farla a pezzi e con l'autonomia differenziata. A me, chiudo con questo per dirvi come può avvenire, io ho raccontato una roba che mi è successa personalmente. Cioè una persona, un imprenditore che conosco, si trovò, vi ricordate quando la Grecia è stata letteralmente consegnata dall'Europa alla Germania perché fosse saccheggiata. Cioè in Grecia, ad Atene, la Germania si è presa gli aeroporti a un milione. Cioè potevamo farlo noi con un crowd foundich compravamo gli aeroporti internazionali. Sul Partenone hanno tolto la bandiera greca, hanno messo quella tedesca, non l'ha fatto neanche Hitler. Bene, come accadde questo? Il Parlamento greco votò per questo, per l'uccisione della... E io mi trovai con questo mio amico che aveva, si dice in Puglia, voleva paglia per cento cavalli, cioè gli fumavano i neuroni. Si era trovato a Milano che discuteva con degli investitori arabi e si presenta un tizio che gli sembrava un mendicante, stava prendendo delle monete per dargli e questi arabi gli dicono no, no, dagli una mano, deve spedire dei soldi a Dubai e lui non parla bene l'italiano, se lo puoi accompagnare. Lui, siccome gli lo chiedevano questi, non sapendo chi fosse questo diavolo qua, l'accompagna, questo lo porta nel cavo di una banca e gli mostra uno scaffale con mazzette di euro, fascette, e dice devo spedire questi. E questo guarda dice ma lei è matto, questi erano almeno 200 milioni di euro, dice no, 270. E dice ma insomma, ma dove mi stanno infilando questi qua? Totale, salgono dal funzionario che per niente impressionato, in un quarto d'ora, spediti i primi 50 milioni, che per la banca significa il 3%, 3 per 5, senza fare niente, un milione e mezzo in tasca. E questo qui, il mio amico, scende e dice vabbè fate voi, io me ne vado agli arabi, dice ma insomma, adesso mi dite che diavolo di soli mi avete messo? Dice no, quello lì è un sottosegretario greco. Quei soldi vanno a Dubai per essere riconvertiti in diamanti e con quei diamanti si compra la maggioranza del Parlamento greco. Il totale sono 500 milioni, gli altri sono stati già spediti da Parigi. Quindi i parlamentari greci hanno votato contro la Grecia. In Italia i parlamentari meridionali stanno votando contro il Sud. I parlamentari nazionali con l'autonomia differenziata votano contro l'Italia, che divide l'Italia e al Sud non resta che la secessione. A quel punto i poteri più grossi si possono mangiare l'Italia perché a pezzetti è possibile, intera no. Chiarissimo, chiarissimo. Tenteremo di impedirglielo chiaramente. Angelo, te volevi dire qualcosa, salutare Pino? Sì, ringraziarlo soprattutto per aver accettato di essere intervistato, soprattutto di aver parlato del movimento di equità territoriale e comunque per averci restituito un quadro sull'insieme di movimenti, di soggetti politici e di associazioni che in qualche modo sottolineano di quale pericolo per la Repubblica sia l'autonomia differenziata. chiaro, chiarissimo. Pino, grazie mille ancora per questa conversazione e sono sicuro piacerà a tutti quelli che ti ascolteranno. Grazie anche ad Angelo, ovviamente, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Speriamo che ci saranno altre occasioni. Pino, quando vorrai, noi siamo qua. Buona serata e buon proseguimento a tutti. Ciao a tutti. Tanto a voi. Ciao, buonasera.